È con profonda tristezza che annunciamo che addio al muro Mazzarano, l'ultimo uomo che ha segnato Van Basten per il suo ultimo filmato e causa della morte, guarda il video fino alla fine. Salvatore Mazzarano, nato il 4 luglio 1965 a Massafra, in provincia di Taranto, ha avuto una notevole carriera calcistica abbracciando diversi club. Iniziando dal Massafra si fa riconoscere per le sue capacità difensive, ottenendo poi importanti successi con Fasano e Casarano prima di approdare all'Ancona nel 1991. L'ascesa dell'Ancona in Serie A nella stagione 1991-92 ha segnato un punto culminante nella carriera di Mazzarano, stringendo una formidabile partnership con Andrea Bruniera. Le sue doti particolarmente difensive furono evidenti nella partita contro il Milan del 9 maggio 1993, dove segnò contro l'iconico Marco Van Basten. Dopo l'Ancona, Mazzarano prosegue la carriera calcistica con il Taranto, Castrovillari e Fasano. Nonostante le sfide, hanno contribuito in modo significativo a ciascuna squadra. Negli ultimi anni è diventato uno stimato commentatore sportivo per Antenna Sud e Blue Note. Tragicamente, Salvatore Mazzarano è morto l'11 gennaio 2024, all'età di 58 anni, nella sua città natale, Massafra, Taranto. Lascia la moglie Gianna e i tre figli, Lucia, Fabiana e Luigi. I funerali avranno luogo domani alle ore 16 nella chiesa di San Leopoldo Mandic a Massafra Taranto. Si prega di inviare preghiere e condoglianze alla famiglia nel box dei commenti qui sotto. Per ulteriori informazioni, iscriviti al nostro canale.